Si attendeva con tanta voglia la presenza della neve su Cacuri e ieri dalle ore 11 la neve non si è fatta attendere. I primi fiocchi di neve sono iniziati a cadere ed hanno continuato fino a tarda sera tanto da innevare tutto il nostro territorio per la gioia di grandi e piccini. Alle ore 15 nella parte superiore della zona del campo sportivo dove scorrono queste immagini la neve aveva già raggiunto l'altezza di 7 centimetri e le strade erano già diventate quasi impercorribile se non con mezzi idonei. Tutti dietro alle finestre per godersi questo bello spettacolo e alle ore 17 l'altezza della neve aveva superato sempre nella zona alta di Cacuri i 12 centimetri. Il sindaco diffondeva tramite facebook la chiusura delle scuole per la giornata del venti. Mentre questa mattina è prontamente intervenuta la protezione civile per spargere il sale lungo la strada. Mattina con sole ma il tempo volge ad essere coperte e non si escludono altre nevicate. Grazie. Grazie.